Sabato 5 agosto San Cassiano Vescovo, è il 217esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 148 al termine, il sole sorge le 5.59, tramonta le 20.34, la luna si leva le 22.50, tramonta le 10.26. Non ricevendo rinforzi per evitare un massacro, Marcantonio Bragadin, comandante delle truppe veneziane nell'assediata Nicosia, capitale di Cipro, consegna le chiavi della città all'ala Mustafa Pasha. Le previsioni per domani? Cielo in prevarenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente di pomeriggio. Precipitazioni di pomeriggio probabilità bassa sulla pianura per piogge locali e medio bassa sui monti per piogge sparse. Si tratterà di piovaschi, rovesci o temporali, per il resto assenti. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno. Differenze anche sensibili rispetto a sabato.